Noi proponiamo ai sindaci di prendere una decisione molto semplice, molto lineare, di adottare un regolamento comunale che preveda innanzitutto la limitazione degli orari di giocata, quindi negli orari sensibili all'ingresso degli orari di lavoro, all'uscita delle scuole, quindi dalle 8 alle 10, da mezzogiorno alle 2, dalle 6 alle 8, di vietare le slot. Di adottare regolamenti che incentivano pesantemente chi toglie le slot, quindi ridurre tutte le tasse locali, ma altresì aumentare le tasse locali per coloro che invece mantengono le slot. Il comune può agire sulla Tari, sulla Tosap, sull'Imu, quindi sono tasse di pertenenza comunale. La terza cosa è di rafforzare i controlli sui locali dove si gioca con le slot ed evitare tutte le pubblicità occulte, tipo tutti i manifestini messi fuori delle vetrine, hai vinto, hai vinto, hai vinto. Chiediamo a tutti i sindaci del territorio di prendere con coraggio questa decisione, sapendo che è una decisione importante e significativa, tenuto conto anche delle risorse che i cittadini spendono nelle slot. Ci sono comuni virtuosi, anche esempi particolarmente vincenti in tutta Italia, ci sono gli esempi positivi? Sì, c'è stato un comune significativo perché il comune di Bergamo ha adottato un regolamento di cui abbiamo accennato prima le proposte, che ricalca quello di Bergamo. Hanno dovuto fare ricorso al TAR perché ovviamente i gestori delle slot si erano posti, però chiediamo ai sindaci di confrontarsi magari con il collega di Bergamo. C'è anche la regione che ha emanato una legge regionale, quindi ci sono tutti i contesti, i riferimenti e i normativi per fare questa scelta e adottare questi regolamenti.